Prima l'autocritica, poi la difesa della categoria e infine l'affondo al Ministero di Grazia e Giustizia. I giudici si giudicano, recitano una sorta di mea culpa provando a ridare autorevolezza e credibilità alla categoria, ma poi si dissociano dalla paternità di molte scelte che hanno fatto storcere il muso ad avvocati e cittadini. Il distretto di Salerno dell'Associazione Nazionale Magistrati con una lunga nota ha provato a fare chiarezza su alcuni temi scottanti dell'amministrazione della giustizia in città ai tempi del coronavirus. In attesa delle improcrastinabili riforme idonee anche al completo ridimensionamento del sistema delle cosiddette correnti all'interno dell'Associazione Nazionale Magistrati, si legge, si prende atto della necessità che l'adempimento alla domanda di giustizia dei cittadini e le modalità con le quali i magistrati si adoperano per darvi pronta risposta debbano essere rese note perché l'opinione pubblica sia informata in ordine alle enormi difficoltà nelle quali giudici e PM sono costretti quotidianamente a svolgere la propria funzione, comprenda nelle esistenti inefficienze l'origine di esse e quali siano i soggetti, magistratura compresa, deputati alla soluzione. Le riflessioni sono figlie anche del flash mob da parte degli avvocati salernitani andato in scena qualche settimana fa che contestavano il pessimo funzionamento dell'attività giurisdizionale nella cosiddetta fase 1 della pandemia. Sull'argomento però i magistrati puntano l'indice su decisioni politiche. Il termine del periodo di emergenza fissato originariamente è stato individuato dal Ministero della Giustizia e non dalla magistratura. La riduzione drastica del personale amministrativo è stato deciso dal Ministero della Giustizia e non dalla magistratura. L'impossibilità per gli amministrativi di utilizzare da casa gli applicativi degli uffici giudiziari che determina la marginalizzazione del servizio rendendolo del tutto inidoneo a ridurre anche di un solo giorno la durata di un procedimento è una scelta del Ministero della Giustizia e non della magistratura o dei dirigenti amministrativi locali. I lamentati disservizi pertanto non possono essere addebitati alla magistratura o all'organizzazione amministrativa locale riguardando competenze ad essa estranee. La nota si conclude con una lunga serie di evidenze rimarcate dai giudici con tanto di sentenze pubblicate in sede civile e penale nonostante il periodo dell'emergenza sanitaria. I giudici si dicono pronti ad una completa ripresa dell'attività giudiziaria non appena le autorità preposte avessero ritenuto che ciò rispondesse a condizioni di sicurezza.